Buonasera amici di Stabesi.toc, chi vale Francesco Cervino, classico appuntamento, gruppo Mondatori con Nunzia Del Gaudio. Buonasera Nunzia. Buonasera a tutti, grazie. Fra pochi minuti ci presenterai il libro, facciamolo vedere dal titolo. Non abbiamo bisogno di parole. Chi è Nunzia Del Gaudio? Sì, in realtà sono una mamma quasi a tempo pieno. Diciamo che quando mi ritaglio degli spazi per scrivere, per dipingere, da dedicare alla poesia, mi sono ispirata a una storia vera, quindi alla storia, alle vicende della vita di Melania Rea, che è una donna e una madre del sud che è stata assassinata da suo marito con 27 coltellate nella macchia boschiva del colle San Marco. Ho proiettato la vita della madre attraverso la figlia, quindi ho immaginato che sia cresciuta, che abbia comunque vissuto in difficoltà, con dei disagi di chi rimane orfana del femminicidio e quindi lei ha vissuto dei momenti di smarrimento, non le è mai stato detto quello che era successo realmente a sua madre e quindi lei l'ha capito piano piano, per questo non abbiamo bisogno di parole. A volte quando ci si ama basta guardarsi negli occhi e quindi lei guardava lo sguardo di sua nonna e capiva tutto. Era una bambina molto perspicace, intelligente e quindi tutto era, diciamo, via via si faceva sempre più chiaro tutto nel suo cuore. È un libro prettamente dedicato alle donne? È un libro sicuramente al femminile ma non femminista, quindi è rivolto a tutte le donne e in particolare si evince dal racconto il legame di sangue che esiste tra le tre donne, la madre, la figlia e la nipote. Alla fine c'è una sorpresa, possiamo definirla così? Sì, vabbè, è un risvolto positivo, una rinascita della protagonista di Viola. Perciò hai tanti curiosi, comprate il libro, edizione? In realtà ancora non è stabilita questa, perché mi sono autopubblicata, però penso il quaderno edizione sicuramente, visto che Stefania stasera ci accompagnerà nella vicenda. Ok, noi ti ringraziamo come sempre, in bocca al lupo. Grazie Francesco, grazie. Buonissima Stefania Spisto. Esatto, buonasera a tutti, ciao amici. Un commento su questo libro che fa tanto parlare? Sì, innanzitutto sono lieta che la presentazione si svolga qui, perché era importante che Castellammare ha visto uno spazio culturale come la Mondadori, dove presentare i libri, dove incontrarsi e discutere sui testi. Per quanto riguarda il libro di Nunzia del Gaudio, è un libro che fa parlare come ha fatto parlare la storia a cui si ispira il libro, che è la storia di Melania Rea. Si ispira a questa storia però con un punto di vista diverso. Quello della figlia è rimasta orfana di entrambi i genitori, perché quando avviene che è il proprio padre a uccidere la propria madre, allora si perdono entrambi i genitori pur avendo uno ancora in vita. Spesso si parla di queste storie, di questi femminicidi drammatici, ma poco si parla di quelle che sono le vere vittime, di quelli che sono i risvolti di queste vicende, perché poi a pagarne le conseguenze sono soprattutto i figli. In questo caso Viola ha un riscatto importante, come vedrete, riesce grazie all'amore del marito e della sua nuova famiglia a superare quello che è stato il dolore della perda della madre e riesce anche a darsi da fare nel sociale per aiutare tante persone in difficoltà. Un libro veramente da acquistare e da riflettere. Per quello che succede poi nel mondo, ecco, posso se la... Sì, direi che quello che scrive Nunzia è ovviamente a tratti fantastico, perché è proiettato anche nel 2036, però credo che sia importante soprattutto per riflettere su quella che è la condizione dei figli che vivono simili tragedie. Io sono il presidente della casa editrice Il Quaderno Edizioni, non ha editato il libro di Nunzia, ma spero che prossimamente farà parte della nostra squadra. A tutti gli amici di Stabilisidoc il mio saluto e il mio arrivederci a presto. Ciao!